Ciao Federico, io sono un insegnante e vorrei dirti che non è facile fare ciò che tu dici, ovvero dire eccomi come Maria risponde all'annunciazione. È difficile andare a scuola e accogliere nuove condizioni ingiuste a cui sono sottoposto. Hai detto che ci sono altre possibilità di scelta per noi guerriere della luce. Potresti indicarmele? Grazie a Zima, e il mio nome da saniasi significa senza fine. Adesso dobbiamo vedere se questo senza fine è presente solo nel nome o se questo senza fine è presente anche in una postura esistenziale. Ogni volta che noi ascoltiamo intimamente ciò che siamo all'interno dei contesti, all'interno dei conflitti, all'interno dei rapporti, il materiale insuperfluo brucia e ciò che noi siamo arde. Quindi è implicito nella discesa dell'anima che ci siano delle difficoltà da affrontare. Cosa accade quando voi dite è difficile? Cosa accade quando voi dite non è facile? Generate questo buco nero all'interno di voi stessi e le energie che avete a sufficienza, a sufficienza ce ne avete, a sufficienza, per affrontare quella prova vengono risucchiate, vengono meno, come lo so. Cosa dice prima lettera ai Corinzi 10-13? Dio è fedele, non vi tenterà mai al di sopra delle vostre possibilità. Questo dovete stamparvelo, dovete scriverlo da qualche parte, in bella cardigrafia, in un bel foglio, oppure a ricamarlo in un bel tessuto. Quanto lavoro c'è da fare. Quando vi darà una prova, quando ci sarà una prova, vi darà anche le energie sufficienti, le energie adeguate per attraversarla. C'è scritto questo, stampatevelo in fronte e questo è un qualcosa. In questo momento, se io decidessi cosa fare domani, stampo le mie scelte per un accadimento, per un'esperienza del giorno dopo, quando il giorno dopo avrò sicuramente le energie adatte ad affrontare quella prova. Io adesso non ho le energie adatte ad affrontare un'ipotetica prova che avrò fra tre settimane o avrò domani. Io sono nuovo in ogni istante. Benvenuti, benvenuti nuovamente all'interno della rubrica Il risveglio dell'anima che tengo per la libreria esoterica Cavour. Questo è un video che non segue nessuno dei video precedenti, né il penultimo pubblicato che ho registrato in questa circostanza, qui, in queste condizioni meravigliose, qui all'interno della cameretta di mia figlia e mi riferisco al video Il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Questo non è il seguito di quello, però intendo farne il seguito di quello, perché in tanti me l'avete chiesto. È del mio premura, è del mio interesse, è del mio motivo di innamoramento. proseguire su quei temi trattati, che adoro e adoro. Vi è piaciuto tanto, lo so perché me l'avete scritto e quindi condividiamo insieme questo innamoramento per questa strada. L'ultimo video pubblicato invece è una serie di estratti del percorso Vangelo e Magia che, così rispondo anche diverse mail che leggo, ripartiranno. Quindi è possibile iscriversi, è possibile già prenotarsi scrivendo la mail della libreria Cavour che trovate sotto i video, è possibile prenotarsi già ora e ripartiranno a settembre nuovi percorsi di Vangelo e Magia e ripartiranno anche percorsi avanzati che potranno fare solo coloro che escono indenni, sani e salvi dal percorso intensivo attuale. Questa mail che vi leggerò oggi di Asima, che è il suo nome da saniasi, così leggo, che significa senza fine, ci dà la possibilità di toccare diversi punti e in tanti vi esprimete in un certo modo che appunto è presente anche all'interno di questa mail. E voglio mettervi in guardia rispetto a tutto quello che c'è dentro certi termini o certi sapori esistenziali, certe nostre posture. Il lavoro mio e di coloro che mi seguono è un lavoro che deve stabilire, deve edificare all'interno di noi stessi una postura. Io non vi posso assolutamente dire cosa dovete fare. Se trovate colui che vi dice cosa fare, mandatelo tranquillamente a quel paese perché non ha nessun diritto e nessun dovere di farlo. e questo è un sacro compito tutto vostro, è il guai che vi toglie questa possibilità, questo rapporto, all'ingresso di questa fonderia ci siete voi, dovete entrarci voi, non potete far entrare nessun altro. Voi siete fuoco, fuoco che consuma, come dice Deuteronomio 4. Ed è fondamentale, fondamentale che voi ardiate all'interno di voi stessi, bruciate, bruciate superfluo perché come tutti i fuochi, come tutte le fiamme che conosciamo non potrebbero ardere, non potrebbero aumentare il loro volume, la loro forza se non viene il legno da bruciare o qualche materiale da sciogliere o da bruciare. È importantissimo tutto questo. Noi siamo come se fossimo all'interno di una fonderia, questo fuoco arde, questo fuoco brucia sempre di più in base a tutto il materiale che sta arrivando da bruciare. Questo materiale all'interno di voi. Il mondo esterno semplicemente spreme come un tubetto di dentifricio e fa uscire ciò che siete, ossia il dentifricio stesso. Utilizzo sempre questa similitudine per far comprendere le cose. Quindi il mondo esterno è una proiezione del nostro stato di coscienza, tutto ciò che accade ci mostra ciò che siamo e quindi se ciò che siamo ci crea conflitto, questo conflitto si può sciogliere nella misura che noi attiviamo ciò che siamo. Quindi questo sacro fuoco presente all'interno di noi stessi. Quindi questo è un momento sacro, un momento bellissimo, colmo di opportunità in tanti. Mi chiedete se siamo prossimi alla fine di questo periodo per iniziare un periodo di pace, di luce, eccetera. Secondo me dovete avere molta pazienza perché siamo solo all'inizio, secondo me, ma non è perché voglio tirarla o perché sono negativo, sono realista e seguendo il maestro passo passo, se il maestro, se Gesù ci ha detto che quando arriveranno periodi di carestie, di guerre, di regno contro regno, popolo contro popolo, non vi preoccupate perché solo all'inizio, ecco io, io mi fido del maestro e non perché il maestro sia una persona negativa o perché magari non ha letto The Secret e quindi gli manca il pensiero positivo, gli manca il pensiero positivo perché non ha letto The Secret, ecco, non credo, non credo, penso che sia molto realista e lui dice gioite, gioite, rallegratevi quando accadranno tutte queste cose perché l'inizio è vicino, non la fine è vicina, sì, la fine di questo periodo è vicino, ma anche l'inizio, il nuovo inizio è vicino e quindi io colgo questo aspetto, io colgo l'aspetto resurrezione, non colgo l'aspetto crucifissione e all'interno delle continue crucifissioni giornaliere cerco di percepire l'estasi che è presente all'interno della sofferenza, in tantissimi di voi piano piano state entrando, non solo in questa logica, ma anche in questo sentire, in questo lavoro scientifico spirituale, non spirituale, ecco, quindi in questo video mi auguro che faremo dei passi ulteriori toccando degli aspetti che Asima ci dà appunto la possibilità di toccare, quindi iniziamo, massima attenzione, dritti, verticali, massima attenzione perché sono video, video lezioni, perché coloro che non hanno la possibilità di partecipare percorso intensivo, comunque anche se, ovvio che il percorso intensivo settimanalmente incontrarsi di gruppo e vedere tutte le dinamiche personali, collettive, eccetera, e tutti i principi della logica verticale, della logica spirituale, è tutto un altro lavoro ed è fuori discussione, però per chi non ha la possibilità o per chi ancora non se la sente, è tutta una serie di motivazioni, seguire anche i video che pubblico, periodicamente pubblici appunto, sicuramente è un buon aiuto e in tantissimi so che state avendo dei buoni risultati, dei buoni spunti e quindi sono molto contento e sono qui, sono qui veramente colmo di gioia a fare questi video. Dai, massima attenzione, iniziamo. Ciao Federico, ho ascoltato l'ultimo video pubblicato degli estratti delle tue conferenze. Io sono un insegnante e vorrei dirti che non è facile fare ciò che tu dici, ovvero dire eccomi, come Maria risponde all'annunciazione. È difficile andare a scuola e accogliere nuove condizioni ingiuste a cui sono sottoposto. Io non sono Maria, capisci? Hai detto che ci sono altre possibilità di scelta per noi guerriere della luce, potresti indicarmele? Se puoi, sii più concreto per cortesia. Grazie a Zima, è il mio nome da saniasi, significa senza fine. Allora, Zima, senza fine. Adesso dobbiamo vedere se in questo senza fine è presente solo nel nome o se in questo senza fine è presente anche come postura esistenziale. Allora, tu mi chiedi in questa mail di indicarti altre possibilità di scelta in merito, in quanto tu sei un insegnante e probabilmente ti riferirei al fatto che il governo dei dementi, il governo dei peggiori, ha decretato che un insegnante può tornare a scuola ma non insegnare. Questa è fantastica questa cosa. E quindi tu nel video, che è un estratto, ripeto, del percorso Magia e Magia, ho detto, oltretutto l'ho anche detto, ognuno può fare ciò che vuole perché è sacro, può incatenarsi fuori dal cancello ed è sacro, può non andare a lavoro ed è comunque sacro, oppure può andare e se gli dicono, eccoti il mozzo, eccoti il secchiello, dai lo straccio dappertutto anche se sei un insegnante, tu questa cosa la puoi vivere con gloria e con il sole in fronte e probabilmente lo sguardo dei tuoi alunni che ti incontrano nei corridoi mentre lavi per terra, se nel tuo sguardo è colmo di luce, di fuoco, di umiltà, ecco loro, quei bambini si nutrirebbero, secondo me, a livelli incredibili, molto più di cinque ore di lezione di storia e di geografia, solo guardandoti negli occhi, in questa tua postura fiera, mentre pulisci per terra, metti dallo straccio per terra, tra l'altro uno dei più grandi shock presenti nei Vangeli è quello quando Gesù prende una bull d'acqua, tra l'altro in questa bull d'acqua è bellissima anche perché è la bull d'acqua che prende per lavare i piedi agli apostoli un uomo con una bull d'acqua e anche il simbolo dell'età dell'acquario, il simbolo dell'acquario, quindi come vedete Gesù la sapeva molto lunga e si riferiva precisamente a un determinato momento storico, appunto quello che stiamo attraversando. E lui appunto pulisce i piedi quando arriva da Pietro, ovviamente da Pietro, e Pietro cosa fa? Ma cosa fai? Cosa fai maestro? Cosa fai? Tu sei il maestro, io al massimo dovrò lavarti i piedi. E lui dice stai zitto per cortesia, e Gesù gli dice guarda quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma un giorno lo capirai. Adesso non sei a riferimento col fatto di lavare per terra col mozzo nelle scuole, però è questo gesto di umiltà profonda. E quando il maestro dice guarda che se io non faccio questo tu non entri nel regno e un giorno lo capirai, si riferisce a noi. Poi certo, se non siamo pronti a dire eccomi, come ho detto anche nello scorso video, non è un problema, non dobbiamo assumere forzatamente una postura, quindi scegliere di fare un qualcosa che va contro il nostro attuale livello di coscienza. Se siamo lì e smadonniamo mentre puliamo, forse è più opportuno esprimere i nostri fuochi in maniera più manifestando orizzontalmente, che ne so, anche impegnandosi tutti i giorni in questa lotta nel condividere il nostro messaggio, che ne so, incatenarsi fuori dalla scuola, organizzare delle manifestazioni, sono tutte estremamente sacre, sono tutte molto importanti, quindi quando mi chiedete meglio manifestare o non manifestare, è meglio fare questo o non fare questo, è una domanda sciocca, è una domanda demente, è una domanda che voi dovete vedere all'interno di voi stessi e rispondervi seguendo la linea di maggiore esistenza, non troppo grande, ma neanche troppo leggera la cosa, deve essere molto importante che voi facciate un lavoro su voi stessi e vi assumiate la vostra responsabilità, vi assumiate la responsabilità delle vostre scelte, tendendo alla via di maggiore esistenza, qualcuno andare a manifestare in piazza è la via di maggiore esistenza, perché è sempre rimasto un po' riservato all'interno della sua vita, all'interno della sua quotidianità, quindi scuotere un po' questo ordine, scuotere un po' questo torpore, andare a manifestare è sicuramente sacro, è della via di maggiore esistenza per lui e quindi è ottimo che la segua, come coloro che invece di entrare all'interno di loro stessi preferiscono andare a manifestare in piazza, così sfogano fuori quello che non riescono a vedere dentro, coloro probabilmente è più opportuno per loro la via di maggiore esistenza sarebbe appunto entrare all'interno di loro stessi, è molto importante questo aspetto ed è molto importante che lo facciate vostro, ecco quindi la domanda ti ho già risposto, ognuno può fare ciò che crede, ognuno può fare ciò che vuole, seguendo appunto questa indicazione, segui la via di maggiore esistenza, segui la tua via di maggiore esistenza e senti dov'è, senti dov'è, ti verranno in mente delle cose da fare, ti verranno delle indicazioni da seguire, tu segui la via di maggiore esistenza e vivi fiera questa via di maggiore esistenza, qualsiasi essa sia e cerca di viverlo in totale ascolto, con questo ascolto che è un sesto senso, con questo ascolto mediativo, con questo ascolto cardiaco, è tutto ciò che conta, ogni volta che noi ascoltiamo intimamente ciò che siamo all'interno dei contesti, all'interno dei conflitti, all'interno dei rapporti, il materiale insuperfluo brucia e ciò che noi siamo arde e progressivamente ci liberiamo della demenza all'interno di noi stessi e progressivamente bruciamo demenza dall'atmosfera in cui siamo e progressivamente bruciamo la demenza anche all'interno del mondo, mi riuscite a comprendere? Poi ci sono due termini che vengono utilizzati, io voglio assolutamente farvi vedere un qualcosa perché voi date per scontato magari utilizzare certi termini o certe affermazioni, ora tu dici io sono un insegnante e vorrei dirti che non è facile dire eccomi come Maria risponde dell'annunciazione, è difficile dopo segui, non so se si vede ragazzi non lo so, non è facile, è difficile, Rebecca mia figlia ha perso tutti i miei uniposca e quindi devo scrivere con i suoi colori, è difficile andare a scuola e accogliere le nuove condizioni ingiuste a cui sono sottoposti, io non sono Maria, capisci? Allora, asima, senza fine, devi sapere un qualcosa, devi sapere una cosa, tutte le volte che tu, e questo vale per tutti quanti voi perché la vostra e-mail è strapiena, è difficile, non so se ce la faccio, è dura, eccetera, eccetera, tutte le volte che dite, esprimete questo pensiero intimamente, interiormente o esteriormente, voi generate un buco nero nel vostro campo psichico, voi generate un buco nero, date vita a un buco nero o ravvivate o allargate un buco nero all'interno di voi stessi e questo buco nero succhia tutte le energie che avete a vostra disposizione proprio per attraversare questa prova, quindi categoricamente, visto che dovete fare un lavoro su voi stessi, categoricamente fare basta di dire è difficile, dovete diventare più veloci dell'impulso a dire è difficile, non è facile e tutte queste cavolate che non hanno senso. Oltretutto ti chiami senza fine, se vuoi iniziare ad essere senza fine invece che chiamarti solo senza fine, che non ha assolutamente senso chiamarsi senza fine quando sei stracolma di finito, quindi se vuoi chiamarti senza fine e rispettare questo nome sacro di chiamarsi senza fine anche perché hai cambiato il nome, se no tornavi a chiamarti come prima, lasciavi il nome di prima. Devi esprimere la postura esistenziale senza fine, se no non mi avresti scritto, non mi avresti scritto una mail del genere. Allora, tutte le volte che dite è difficile, tutte le volte che dite che non è facile, a prescindere dalle difficoltà oggettive che ci sono nel mondo, perché è certo che ci sono delle difficoltà, scendiamo in questo mondo come anima per affrontare delle difficoltà, poi la personalità non le vuole affrontare, questo è il grande conflitto tra anima e personalità, ma l'anima è implicito nella discesa dell'anima in questo mondo delle difficoltà perché deve raddoppiare i propri talenti e se non ci sono delle difficoltà spiegami tu come fai a raddoppiare un talento, come fai a raddoppiare il talento della fiducia dell'esistenza se non vi è qualcuno che ti tradisce all'interno di questo mondo, come fai a raddoppiare la fiducia nell'esistenza se nel mondo fuori va tutto in base alla tua capacità di provare fiducia, come fai ad aumentare il tuo livello di perdono, quindi a raddoppiare il talento del perdono se nessuno ti fa niente, se qualcuno fuori non si comporta in modo che tu ti senti offeso in qualche modo, non so se lo vedi. Questo è il lavoro spirituale, questa è la postura verticale, cercare di vedere tutto quello che accade nel mondo come un campo di allenamento, come un campo di battaglia per l'anima, perché per l'anima è appunto questo, quindi è implicito nella discesa dell'anima che ci siano delle difficoltà da affrontare, cosa accade quando voi dite è difficile, cosa accade quando voi dite non è facile, generate questo buco nero all'interno di voi stessi e le energie che avete a sufficienza, a sufficienza ce ne avete, a sufficienza per affrontare quella prova vengono risucchiate, vengono meno, come lo so. Prima lettera ai Corinzi 10-13, cosa dice? Intanto guardo qui il minutaggio. Cosa dice prima lettera ai Corinzi 10-13? Dio è fedele. Questo dovete stamparvelo, dovete scriverlo da qualche parte, in bella cardigrafia, in un bel foglio, oppure ricamarlo in un bel tessuto, oppure dipingerlo in un bel quadro e metterlo a pendolo nella vostra parete di casa. Quando vi svegliate la mattina vedete questa bella scritta, prima lettere ai Corinzi 10-13 e la leggete. Prima di andare a letto, la mattina appena vi svegliate, deve diventare un mantra, deve diventare una colonna del tempio. Dovete edificare il vostro insegnamento, dovete edificare voi stessi sulla roccia, non sulla sabbia. Tutto quello che sta accadendo spazza via tutto ciò che è costruito sulla sabbia, insegnamento compreso e tutto quello che voi pensate, che sia giusto, sia sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle sicuramente come prime cose, vengono spazzate via. Quanto lavoro c'è da fare. Dio è fedele, non vi tenterà mai al di sopra delle vostre possibilità. Quando vi darà una prova, quando ci sarà una prova, vi darà anche le energie sufficienti, le energie adeguate per attraversarla. C'è scritto questo. Stampatevelo in fronte. E questo è un qualcosa. Un altro passo. Non preoccupatevi di ciò che dovrete dire e di ciò che dovrete fare. Non preoccupatevi di quando sarete nelle mani dei re dei governatori. Non preoccupatevi di ciò che dovrete fare, di ciò che dovrete dire. Occupatevele nel momento che accadrà. Perché in quel momento vi verrà dato dallo Spirito Santo, che è il Padre vostro all'interno di voi, cosa dire e cosa fare? Sicché i vostri amici, i vostri nemici, non possono arginarvi. Ok? Queste due colonne devono essere le colonne portanti della vostra giornata, da ricercatore spirituale, da ricercatore verticale, da ricercatore dei misteri dell'esistenza. E basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Non scrivete più mail pieni di questa roba qui, non vi rispondo più. Se io leggo nelle prossime mail, è difficile, non è facile, vorrei vedere te il mio posto, io cestino, appena leggo questa cosa, cestino subito e non rispondo. Sbettetela! Quindi guardate bene, Dio è fidele, vi darà le energie sufficienti con la prova. Ma tu in quel momento cosa fai? Cadi nella demenza di questo mondo. Tutti quanti sono così. Eh ma è difficile, eh ma non è mica facile, ci ho provato anche il mese scorso e non ce l'ho mica fatta, non ce l'ho mica fatta. Non è facile, io vorrei vedere gli altri quanti ce la fanno ad affrontare le prove in queste, in queste condizioni. Porca vacca, porca! Senza fine! Sei senza speranza, non senza fine! Se Dio è fedele e con le prove ti dà le energie sufficienti, tu questo devi prendere. Se tu cadi nella demenza collettiva, in questa ipnosi collettiva, di questa lamentela, in questo suono di fondo belmoso e merdoso, che è la lagnentela, che è la lamentela e che di fatto bisogna lamentarsi, perché di fatto fuori accadono cose brutte e cattive e di fatto è giustificato lamentarsi, che non è assolutamente così, dovrebbe essere una scelta, siccome siamo lenti, siamo dei salami, ma è difficile, di fatto comunque è difficile, vivete la prova prima di viverla, la vivete all'interno di voi stessi, calcolate le possibilità, prima di affrontarla, vivendola prima, guardandola prima, le energie vengono meno, le energie che il padre ti ha dato per affrontare quella prova, vengono meno, semplicemente con questa demenza meccanica che fanno tutti. Un'altra cosa, quando sarete nelle mani dei re dei governatori, quindi il preoccuparsi prima di ciò che dovrei, esempio tu dici, cosa dovrò fare quando andrò a scuola e eventualmente mi daranno questo boccio o questo secchio, perché te ne preoccupi prima, perché te ne preoccupi prima, anche se fosse un'ora prima, tu un'ora dopo sei nuova, quando Gesù dice non preoccuparti prima, perché nel momento preciso ti verrà detto, ti verrà dato dallo Spirito Santo che è in te il padre che soffia all'interno di te, e lì saprai cosa dire, saprai cosa fare, perché vuoi vivere prima in una condizione in cui non sei all'altezza di quel momento? In questo momento se io decidessi cosa fare domani, stampo le mie scelte per un accadimento, per un'esperienza del giorno dopo, quando il giorno dopo avrò sicuramente l'energia adatta ad affrontare quella prova, io adesso non ho l'energia adatta ad affrontare un'ipotetica prova che avrò fra tre settimane o avrò domani, io sono nuovo in ogni istante. vivere prima le condizioni che accadranno vuol dire stampare il risultato che accadrà senza tenere in considerazione, senza darmi la possibilità che in quel momento che accadranno le cose io avrò un'energia adeguata a quella prova, vi ricordate prima lettere corinzi 10-13? Con le prove vi darà anche l'energia sufficiente per affrontarla, ma in quel momento! Quindi tutte le volte che cercate di preoccuparvi prima di quello che accadrà, avete perso! E' lì la trappola! Non è quello che succede fuori! La trappola risiede nella vostra postura esistenziale, nel vostro sguardo, come vedete voi le cose! Non è mai ciò che accade, ciò che accade è sacro! Siamo scesi per questo motivo e come voi l'affrontate e come voi le vedete! che vi è la trappola! Quindi se Dio è fedele, non vi tenterà mai di sopra delle vostre possibilità, io accolgo la prova nel momento che arriverà. Ah ma comunque Federico, fra tre settimane comunque dovrai decidere! E tu aspetti tre settimane! Non vivi prima quell'esperienza, perché tu adesso non hai le energie sufficienti probabilmente per affrontare quella prova, e quella prova quando arriverà? Tu lì sicuramente le avrai! E questa è la via verticale, questa è la via cristiana! Quando Gesù dice delle cose, vanno prese proprio alla lettera e incarnate! E poi dentro le prove sperimentiamo le nostre verità! Quindi guarda un po', tu dici è difficile, quindi la vivi prima, le energie vengono meno, e com'è? Pensare già cosa decideremo di fare fra tre settimane! Tutte le energie adesso vengono meno! Quando arriverà quel momento, io dentro di me ho già stampato la scelta, quindi non mi do la possibilità di vivere e affrontare quella esperienza perché l'ho già vissuta e ho già determinato! Non tenendo in considerazione, ve lo ripeto un'altra volta, non tenendo in considerazione le energie che in quel momento scorreranno all'interno di me, perché è lo Spirito Santo che passa attraverso di me e il Padre mio che scorre attraverso di me mi dirà cosa fare e cosa dire! Insomma ragazzi, o i passi evangelici li prendiamo seriamente o li prendiamo solo per fare i fighi, avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni di sciacquarvi la bocca e poi non le mettete in pratica queste robe qua! A parte il fatto che quando scrivete su Facebook tutti i vostri passi evangelici bellissimi che avete imparato e di cui vi siete innamorati, è di per sé un richiamo al Padre, Padre sono pronta e lui ti manda la prova del passo evangelico che voi ti hai scritto! Quindi se voi dite non preoccuparti prima di ciò che dovete dire, di ciò che dovete fare, lo scrivete su Facebook, ah che bravo quanto sei saggia! Vai tranquilla! Da lì parte il tempo e arriverà la prova in cui voi dovete vivere quello che avete scritto! Questo è il tempo dell'accelerazione! Questo è il tempo del senza fine! Senza fine! Asima, senza fine! Tu ti cambi asima! Hai detto tu! Quindi come affrontare questi... Allora avete capito? Quindi basta categoricamente dire non è facile, basta dire è difficile! Perché le vostre energie vengono immediatamente risucchiate da questo buco nero che create voi stessi con queste affermazioni! Ok? Vivendo prima l'esperienza in questione! Questo è importantissimo! È importantissimo! Perché cosa succede? Guardate la demenza assoluta dell'essere umano! Uno dice, ah ma è difficile! E le energie vengono meno! Cosa succede in quel punto? Sei davanti a un bivio! Qui c'è il gattino che mi ha qua! Sei davanti a un bivio! Scegli di affrontarla, ma nel frattempo, dicendo è difficile l'energia è data giù, però provi a affrontarla lo stesso! Ma ti tuffi all'interno dell'esperienza! Ti tuffi all'interno della prova! Qualsiasi sensa sia! Qualsiasi difficoltà affrontiamo in questo mondo! Dalla più piccola alla più grande! Qualsiasi difficoltà! In quel momento, non avendo le energie sufficienti, proviamo, ci tuffiamo all'interno della prova, ma non abbiamo la forza per reggerla! Non abbiamo la forza per proseguire! Non abbiamo la forza per affrontarla! A prescindere da quello che pensiamo sia il risultato quantitativo! Che non frega niente! All'anno mi interessa la partita! A noi mi interessa il risultato! Cercare di comprendere! Il risultato interessa al mondo o agli altri! Quindi non a noi! Quindi il risultato nostro è di per sé raggiunto nel momento che affrontiamo la prova! Nel momento che affrontiamo la sfida! Quindi è difficile! Le energie vengono meno! Affronto lo stesso la prova, ci provo! Ma non ho le energie sufficienti per quella prova! Perché il padre me la date! Ma io le ho perse! Il mondo me le ha risucchiate! Perché nella mia demenza orizzontale, che è ombra, me le ha risucchiate! Io mi sono fatto fregare! Non che il padre non te la date! Tu te le sei fatte asciugare! Tu te le sei fatte risucchiare! Ora cosa succede? Provi a fare la prova! Affronti la prova! Non riesci a reggerla! Ci esci e dici Te l'avevo detto io! Che non era facile! E che era difficile! Convalidando la demenza! Convalidando l'idea che avevi ragione! Invece, è il fatto di averla vissuta prima che ti ha tolto le energie sufficienti per affrontarla! Non sai questo meccanismo! Provi ad affrontarla! Dopo che hai detto che è difficile! Le energie vengono meno! Non riesci ad affrontarla! E dici Cavolo! Avevo ragione! Te l'avevo detto io! Di fatto ti condanni a vivere, nello stesso modo, con più convinzione ancora, la stessa dinamica alla prossima prova! Entrando in una spirale discendente continua! E' come l'otto! Avete presente il disegno dell'ottano? A un certo punto le linee si intrecciano! Questi sono i momenti in cui noi possiamo decidere! Lo vedete? In questo punto, il punto centrale, o puoi andare su, o puoi andare giù, o puoi andare verso il basso, o puoi andare verso il conosciuto, o puoi andare verso l'infinito, verso il nuovo, o verso il finito, o verso l'infinito, o senza fine, o già finito, o senza fine, asima, o già finito, prima di cominciare, lo vedete? Quindi tu mi dici come affrontare, seguitemi, quindi tu mi dici come affrontare le prove, quale postura esistenziale avere, cosa ti consiglio, io ti consiglio quindi di scegliere la via di maggiore esistenza e svegliarti la mattina e di dire padre che prove è pronte per me, che prove mi manderai oggi affinché io possa edificare ancora di più questa postura esistenziale ed inizi ad avere un rapporto confidenziale con il senso dell'infinito all'interno del mio cuore. Noi all'interno della giornata abbiamo tantissimi conflitti, abbiamo dei disagi, o abbiamo dei rapporti, qualsiasi, più o meno attesi, più o meno caldi, però diciamo che tendenzialmente abbiamo, soprattutto in questo periodo, diverse occasioni, ma anche all'interno di un semplice rapporto, all'interno di una cena, all'interno di un pranzo, all'interno del lavoro, all'interno di una discussione con i nostri familiari, all'interno di una discussione, all'interno dell'ambito lavorativo, all'interno del fidanzato, l'amante, qualsiasi cosa, oppure con tutto quello che il mondo esterno e tutte queste pandemenze sanitarie, militari, economiche, eccetera, si stanno dando come possibilità, noi abbiamo tantissime possibilità di arrivare a questo punto. E a questo punto, e noi siamo qui, arriviamo davanti ad un bivio, se abbiamo una certa velocità di percezione, ma è di dubbio che se siete qui ce l'avete, edificare una scelta, perché se questa scelta non c'è, è evidente che sceglierete sempre il già finito, e sceglierete sempre il conosciuto, sceglierete sempre la zona comoda, la zona di comfort, e quindi, altro giro, altra corsa, arriverà un nuovo conflitto, e ancora sceglierete la via larga, altro giro, altra corsa. Chi è che lo diceva? Innanzi alla prova, non scegliere la via larga, perché larga è la via che conduce alla perdizione, scegli la porta stretta. Ma questi passi riusciamo a incarnare all'interno di noi stessi? O semplicemente sono delle chiacchiere, sono delle cose belle che Gesù diceva, o quante rassaggio Gesù, o quante rassaggio Gesù, ma avete questa idea di fondo che non parli di voi. Gesù parla a te, Gesù parla a me, Gesù non parla al nostro vicino di casa, Gesù non parla a un altro popolo, Gesù parla a te, Gesù parla a me, e ti dice, passa dalla porta stretta, perché larga è la via che conduce alla perdizione. Ma cosa aspettiamo noi? La grande prova? Ah, ma io quando arriverà la grande prova, l'iniziazione, io sarò pronta, perché ho letto tanto, e ho studiato tanto, e ho visto tanti video. Tesoro mio, la grande prova, tu non l'affronterai neanche, perché sarai già morta, se tu ogni giorno, in ogni istante, non edifichi la via di maggiore esistenza. Colui, l'iniziato, è colui che non scende neanche in campo durante l'iniziazione. Riceve l'iniziazione perché ha conseguito un livello di postura esistenziale, uno stato di coscienza, un atteggiamento esistenziale, tale che non conosce sconfitta. Non sconfitta in ambito quantitativo o di quello che le persone fuori, con lo sguardo dei salami, possono vedere. Perché uscire sconfitti per questo mondo è perdere, uscire malconci, aver subito un'offesa o perdere un qualcosa. Ma questo non è assolutamente vero. Per l'anima è tutt'altro la sconfitta. Per l'anima la sconfitta è non scendere in campo, non essere in campo. L'anima nel momento che è in campo vince. L'anima vince nel momento che è in campo. E può scegliere tra il vuoto o il conosciuto. Sì, ma ho capito, ma Federico, ma c'è bisogno che urli? Gli altri parlano in maniera così serena, parlano in maniera così calma, parlano in maniera così amorevole. E a me piace tanto. E io, io provo delle belle sensazioni. E perché tu, perché tu, perché tu, perché tu, perché tu, perché tu urli? Non c'è bisogno di urlare. Ma sì, invece, sì che c'è bisogno di urlare. E se queste cose ti danno fastidio, levati dai coglioni e non vederci mai più. Oh, ma come arrogante questo qua, come arrogante. Ma non c'è senso di fratellanza. Ma quale fratellanza, tesoro mio? Ma quale fratellanza? Ma di quale fratellanza stai parlando? Ma di quale fratellanza stai parlando? Quello di tenersi le mani durante i seminari, nel momento della meditazione, e sentiamo questo gorgolio all'interno dello stomaco e pensiamo che sia il cuore. E appena usciamo da lì, appena ci arriva la bolletta del gas che è aumentata nel 300%, ma diamo a fanculo tutti? Razza di salami! Trent'anni di lavoro spirituale buttato nel cesso! Ehi! Ma non senti l'ardore, l'ardore della battaglia! Cos'è questa lamentera continua di tutto quello che accade perché gli altri, perché loro, perché gli altri non sono così? Se gli altri non avessero fatto questo, anche noi in questo momento saremmo così? Ma che cos'è sta mondezza? Il conflitto è dentro di te, la battaglia è dentro di te, le non scelte sono dentro di te! Cosa ti lamenti degli altri che hanno fatto la scelta sbagliata rispetto alla tua? E poi tu pensi di essere giusto semplicemente perché l'ho dice fatta una putturina, magari! O semplicemente perché non hai scaricato l'infame tessera! Ve l'ho detto e ve lo ripeto! Chi non ha scaricato l'infame tessera non è detto che sia consapevole! Colui che è consapevole probabilmente lo scarica l'infame tessera! Ma detto questo, non bisogna condannare coloro che l'ha scaricata perché non l'hanno potuto fare diversamente! Cerca di migliorare tu! Cerca di entrare nel vuoto tu! La stessa condizione che non sopporti negli altri è questa mancanza di presa di responsabilità! è la tua! Tu sei convinta di essere pronta nel momento che arriverà la grande prova! Io ti dico che la grande prova a te non arriverà mai! Perché sei già morta! Sei già morta! In ogni istante della tua giornata quindi voi un consiglio asima senza fine devi anelare al vuoto devi cercare di percepire l'infinito all'interno delle cose l'infinito agisce in ogni processo lo senti? senza fine asima lo senti? lo senti l'infinito che agisce in ogni processo in ogni ritmo in ogni evento a ritmo cardiaco le foglie si muovono il vento soffia la pioggia scende la pioggia cade il sole sorge l'arcobaleno le tasse arrivano e tu le paghi l'amore che fai gli incontri gli incontri gli incontri occasionali il lavoro dei tuoi sogni la tua passione il mangiare il sale nella pasta il sale nell'acqua il frutto il frutto che cade dall'albero i fiovori che germogliano e la notte che arriva il giorno che sorge lo senti lo vedi sei in contatto di questa potenza creativa che si chiama esistenza che attraversa anche te la senti quella spinta la senti con l'energia lo senti lui in te se no sono solo balle balle spirituali sono solo solo balle lo tocchi con mano l'infinito che agisce all'interno di tutti i processi in ogni ritmo in ogni evento riesci a sentire a percepire la sua presenza attiva all'interno di tutte le cose questo è il lavoro più importante della tua vita scegli l'infinito al finito ogni giorno tutte le volte che puoi sorprenditi si ho capito Federico ma cosa devo fare la strada del non conosciuto la strada di maggiore esistenza si ho capito Federico ma qual è? ma se è sconosciuta ma se è il vuoto è bello che voi credete di sapere cosa accadrà e cosa troverete nel regno ma se il regno è un luogo sconosciuto al nostro intelletto perché andate ancora per comparazione perché avete ancora bisogno di definizione che vi fanno sentire un po' a vostro agio in questa idea di merda che avete del regno perseguendo di conseguenza un ideale del regno e quindi tutta una serie di cose che accadono invece nel mondo non vanno bene appunto per perseguire la realizzazione del regno se il vuoto se la via di maggiore esistenza è il mondo sconosciuto non vi è comparazione non vi è nulla da comparare non vi è nulla da definire c'è semplicemente da affrontare quel vuoto e quel vuoto è all'interno di voi stessi se non avete neanche la percezione di quel vuoto all'interno di voi stessi siete già morti non avete la possibilità assolutamente di entrare nel regno perché non riuscite ad entrare in quello spazio di vuoto all'interno di voi stessi questo è il primo vostro lavoro allora in quel preciso istante quando percepite il senso dell'infinito adesso vi leggo qualcosa quando percepite il senso dell'infinito all'interno del vostro cuore allora può essere che entrate in contatto di quelle scintille che escono dalla grande fiamma e da lì si incelera quello che viene definita anche nella scienza culta le intuizioni e quindi comincia ad entrare in contatto la sostanza delle cose non con la forma la forma la date voi attraverso quell'intelletto salame che avete perdete un intelletto ma io ho quattro laure lo stesso è uguale sempre un intelletto salame non si inventa niente un intelletto arido un intelletto che ripete copia e incolla il copia e incolla studiare cose che altri hanno studiato sì va bene è interessante ma non vi è forza vitale all'interno non la senti vi è ma tu non la percepisci vi è la prima volta che tu leggi qualcosa di nuovo e tu le prendi come presunte verità e si depositano all'interno di te queste forze vitali queste forze spirituali da lì elimini la forma che ti ha dato la possibilità di raggiungere di far depositare all'interno di te queste forze vitali e raggiungi forze di conoscenza questa è la nostra strada allora se tu dopo una volta che fai questo edifici questa postura verticale basta definizioni basta edifici basta non è facile basta vorrei vedere te basta sta merda e entri all'interno e lavori sull'infinito adesso vi consiglio come sempre vi consiglio questo libro questo libricino infinito 1 è un testo dell'Agni Yoga un pensiero al giorno toglie la demenza di torno un pensiero al giorno e ti porta senza fine asima asima senza fine è l'infinito senza fine si chiama infinito ce l'hai l'hai letto eh o ti chiami solo asima allora questo senso dell'infinito ci può entrare all'interno di noi stessi in questa dimensione che è presente all'interno di noi stessi e in questa dimensione possiamo accedere a qualcosa di nuovo al materiale alla mente di Dio e allora lì sapremo cosa dire cosa fare all'interno di qualsiasi momento siamo in contatto del sovramentale io insisto su questa cosa ragazzi e se vi offendete meglio coloro che sono fin sono andati via meglio scriviamo ma voi che siete rimasti ancora forza ragazzi forza ragazzi che ci siamo forza che il sovramentale è qui pronto dai che se bussiamo ci viene aperto sei pronto sbuca questa membrana e per bucare questa membrana lo edifica all'interno di ogni momento della giornata quando puoi scegliere l'imprevedibilità dalla scontatezza quando puoi scegliere la meraviglia con tutto ciò che comporta dalla banalità il nuovo dal vecchio lo sconosciuto l'imprevedibile dal conosciuto a prescindere da ciò che accade e ascolta all'interno di te tutto quel mondo invece che anela al conosciuto e che vuole il conosciuto che brama il conosciuto perché non vuole fare un passo verso il regno dei ceni è un lavoro scientifico spirituale ragazzi è un lavoro scientifico spirituale asima non è quello che fate non è quello che dite non è quello che sapete è ciò che vivete interiormente all'interno di quei momenti in cui l'otto si intreccia e potete andare giù altro giro altra corsa creando ancora più spessore le vostre identificazioni creando ancora più spessore la vostra gabbia creando ancora più spessore la vostra spessore spessore creando ancora più spessore il vostro guscio creandovi pesanti conflitti perché poi l'anima all'interno di voi stessi creerà sempre dei momenti attrarrà sempre degli episodi affinché voi possiate uscire ma più stratificate questa gabbia e più fate fateco uscire perché l'inerzia a andar verso il conosciuto sarà sempre più forte cosa fanno i bambini? vogliono fare cose nuove perché noi no? scelgo la strada nuova perché noi no? il bambino vuole il vuoto e di colpo di vita all'interno del vuoto perché noi no? perché questa paura di sbagliare? perché dovete vedere questa paura di sbagliare da qualche parte questa paura del giudizio altrui è la stessa paura del giudizio che avete voi perché siete pieni di giudizio e quindi avete paura del giudizio altrui che in realtà è lo stesso giudizio che voi avete all'interno di voi stessi dovete vedere tutta questa roba qui vederla perché adesso siete più veloci di questi meccanismi con cui vi siete probabilmente sempre identificati e li lasciate andare via basta non c'è tanto lavoro da fare prendete e sciogliete no ma in realtà vorrei una tecnica più precisa è questa la prendi la via vedi una merda non la pesti se vedi una merda la pesti questo è il lavoro esistenziale questo è il lavoro spirituale camminare in un parco vedere la merda e non pestarla questo è l'atteggiamento è all'interno di questi momenti quindi allenare all'infinito allenare in questo vuoto allenare a questo sconosciuto che è sconosciuto per definizione è sconosciuto il senso dell'infinito è qualcosa che non finisce è qualcosa di tremendamente nuovo per noi se è comodo se è conosciuto vuol dire che hai scelto ancora la via di minore esistenza è un problema non è un problema ma edifica quantomeno ogni tanto questa possibilità e cerca di vedere cerca di vedere la fascinazione animica l'eccitazione animica l'eccitazione spirituale che sorge da questi atteggiamenti da questa postura e quando fate queste scelte non perché il ricercatore spirituale fa queste scelte nuove vuol dire che perché all'interno dell'uomo può ascoltare se stesso e raggiungere eventi sempre più alte e risolvere e consumare il superfluo e quando stiamo in presenza del vuoto che può sorgere l'innamoramento che può sorgere la fascinazione che può sorgere l'accoglienza per farsi sorprendere dall'infinito e in quel momento in ascolto di ciò che siamo di quelle fragranze spirituali possiamo dissolvere l'ombra possiamo dissolvere dissolvere possiamo dissolvere il superfluo poi vedete voi vi dite in tanti si più concreto ma più concreto di questo cosa c'è? cosa volete che vi dica una preghiera? cosa volete che vi faccia fare? volete scrivere un foglio bianco? cosa volete? cosa? 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 questa è una tecnica esistenziale cercare il vuoto cercare il nuovo costi quel che costi e ascoltare ciò che c'è solo cosa succede che la vostra mente arriva sì ho fatto ma adesso non è successo niente perché avete sempre bisogno di comparare avete sempre bisogno di definire ma è nella definizione se è conosciuto e l'intelletto lo conosce lo può comparare e definire con un qualcosa di conosciuto vuol dire che non è nuovo vuol dire che non è infinito vuol dire che non è regno vuol dire che è mondo quindi quando arriva la trappola sì ho capito ma quindi cosa devo fare adesso qui non è successo niente sei fottuta perché sei ancora identificata col processo faccio qualcosa in cambio di qualcos'altro sei sempre sulla scala sei sempre sul piano orizzontale faccio qualcosa per ottenerlo un'altra e il vostro risultato sarà sempre costantemente sul piano quantitativo quindi il mio lavoro spirituale sarà 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 un ottimo lavoro spirituale o ritengo che sto facendo un ottimo lavoro spirituale nella misura che fuori le cose vadano bene cazzata grande balle quando sei facendo un ottimo lavoro spirituale il mondo fuori va di merda secondo la logica del mondo ma va straordinariamente bene all'interno di te stesso certo c'è quella porta stretta da affrontare quando diventa una sorta di meccanicità spirituale quella di assumere questa postura di affrontare le sfide in qualsiasi circostanza e ripeto il padre fedele non vi tenterà mai di sopra delle vostre possibilità allora in quel momento avete bussato e qualcuno vi risponde l'esistenza e tutti gli iniziati della storia sono lì che spingono per noi ma il primo passo lo dobbiamo far noi non ci possono prendere in braccio e scaramentare nel regno dei cieli anche perché tanto ci addormenteremmo dobbiamo fare noi un piccolo passo verso quella direzione verso il vuoto e loro ci vengono a prendere siamo noi che dobbiamo saltare nel vuoto e loro ci vengono a prendere dobbiamo creare degli shock dobbiamo creare degli shock alla nostra personalità degli shock continui dove la nostra personalità non ci capisce più niente dove il nostro mentale va in tilt e ascoltare dentro questo mentale in tilt ciò che c'è lì c'è la vita coltivare pazienza dentro il senso dell'infinito la pazienza che meraviglia se no sarà sempre un lavoro spirituale colmo di ambizione personale quindi di fatto è tutto un lavoro della personalità che si racconta che sta facendo un lavoro spirituale mentre in realtà è tutta una fesseria semplicemente per tornare a dormire dobbiamo creare degli shock continui come dice San Tommaso nel Vangelo di San Tommaso punto non pregate perché vi costruite un inferno non fate l'emosina perché fate torto al vostro spirito che senso ha? parla di questi shock non fate cose perché vanno fatte fate le cose di conseguenza ciò che siete perché se voi fate l'emosina con l'identificazione di questo fatto sia che c'è qualcuno che ha bisogno in un certo senso sto dicendo il padre si è sbagliato questo mondo è ingiusto e quindi quella lemosina non è altro che un motivo un pertesto per tornare a dormire l'emosina intesa come ottava basso quando voi vedete la perfezione all'interno di voi stessi quando voi vedete la perfezione nel mondo esterno la sensazione di perfezione non che il mondo fuori sia perfetto che è estremamente perfetto ma perfettibile e noi siamo qui per questo quando avete questa sensazione cardiaca che tutto è straordinariamente perfetto che tutto è un'avventura allora non fate le lemosina in quel momento ma condividete con un vostro fratello ciò che è vostro in quel momento e che lo date meravigliosamente ma non perché lui ha bisogno lui non ha bisogno di niente è tutto straordinariamente perfetto se voi condividete questa cosa nella gioia della condivisione è nella gioia della richiesta voi non chiedete perché vi siete in difetto voi non chiedete voi non chiedete perché c'è qualcosa di brutto o sbagliato voi non chiedete perché qualcuno si è sbagliato nei vostri confronti voi chiedete in questo senso di condivisione perché è come chiedere a se stessi un qualcosa è come il principio dei vasi comunicanti si riempiono e si riempiono gli altri su misura ma non è che è peggio chi è meglio è tutto straordinariamente perfetto questo gioco ed è straordinariamente perfetto che io chiedo in uno stato interiore di ricchezza se sono mancante economicamente in un momento io dentro interiormente mi sento ricco ricco di verosimile ed è per quello che chiedo ed è per quello che condivido quindi non è fare l'emosina è condivido ciò che ho è come se condividessi con me stesso e la preghiera perché non dovete pregare dice perché se voi pregate per migliorare una condizione esterna vuol dire che dentro di voi pensate che qualcosa di fuori si è sbagliato vuol dire che il padre si sia sbagliato se voi se voi siete identificati con la necessità di pregare perché c'è qualcosa che deve essere cambiato vuol dire che stare dicendo padre si è sbagliato vedi di questa cosa di cambiarla e quindi vi costruite un inferno e come si va quindi a pregare? all'interno di noi stessi per recepire quel fuoco e entrare in quel vuoto e entrare in uno stato di devozione di dono totale al padre di dono totale a se stessi per ciò che realmente si è e anelare quel fuoco quel fuoco sacro a prescindere da ciò che accade a prescindere da ciò che accade e entrare in quel fuoco ascoltare quel fuoco e lasciare i materiali superfluo bruciare quello è quello che conta allora vedremo che tutte le cose che cadono nel mondo delle cose che pensiamo di avere tutte queste cose qui sono semplicemente degli oggetti degli ornamenti un qualcosa in più che serve alla manifestazione dell'anima vi leggo questo pensiero infinito 5 guardate pure gli occhi mi auguro la batteria regga sentite che meraviglia avete mai pensato alla potenza creativa dello spirito su pianeti futuri possibile che tutto abbia avuto inizio se debba finire con voi c'è forse un termine a qualsiasi processo senza fine c'è forse un termine a qualsiasi processo vai a scuola e vedi di nascosto l'effetto che fa scegli in quel momento e fatti invadere da quella forza creativa che sceglierà per te il da farsi la catena dei mondi è infinita per un pianeta che si frantuma un altro nasce la verità combatte la morte e quando gli scetti ci dicono è la fine noi affermiamo è l'inizio è l'inizio non è la fine l'evoluzione una volta che si è intesa rivelerà il trionfo della verità perché non prendervi parte perché sigillare i nostri vasi ancora vuoti quando dico di utilizzare i raggi di riempire il calice della conoscenza di disegnare le creazioni migliori in base alla conoscenza diretta quando dico che la forza sta nell'infinità del sapere significa di prestare orecchio attento ai vortici cosmici orecchio attento ai vortici cospici di cercare la radiazione di Fuat quelle scintille di fuoco di cui vi ho parlato e di comprendere la musica delle sfere il senso dell'infinito se praticato questo esercizio costantemente senza aspettativa senza pretesa che debba succedere qualcosa a livello quantitativo finalmente vi dà la possibilità di servire a questo mondo di farvi canale per il prossimo e non più per voi stessi vi toglie le energie vi toglie l'attenzione dal vostro piccolo sé e vi spalanca le porte all'infinito quello è l'inizio quella strada per il regno quella è la strada che ci porta verso l'alto ci vediamo alla prossima ciao ciao buon lavoro buongiorno ogni settimana nei contenuti per abbonati troverai video speciali e le risposte dei relatori alle vostre domande vocali controlla nella casella community o nella playlist per abbonati abbonarsi è un modo per sostenere la libreria grazie del tuo aiuto grazie a tutti grazie a tutti